Gilda dei Nanni Birrai, il primo e unico birrificio nel comune di Pisa. Produciamo otto tipi di birra, tutte ad alta fermentazione. L'ultima birra nata del birrificio è la birra al peperoncino, birra creata per essere messa in tavola con abbinamenti culinari. Birra che inizia fresca grazie a un lupolo del Pacifico e finisce calda. La nota calorica, ovvero il piccante, arriva a 4 secondi dopo la bevuta. Oltre a questa birra produciamo una birra in stile scozzese, la scotch ale, otto grado e mezzo, bruna, sentori di castagna, miele, burrosa in bocca e un finale di caffè. Una apa e una ipa, una birra di frumento e poi una belgia gold strong ale, che è la birra più gradata del birrificio. Birra speziata con del coriandolo, coriandolo che aiuta a nascondere bene l'alcol. Birra che inizia mielosa e finisce secca. Altyazı M.K.